Oggi si celebra la giornata mondiale della felicità, è sempre stata oggetto di riflessioni filosofiche e opere letterarie, nonché argomento ricorrente di programmi politici, cultura popolare, cinema e musica. Da sempre ci chiediamo se la felicità sia un vissuto acuto, momentaneo e poche volte ripetibile, o se sia cronicizzabile, se si possa insomma essere costantemente felici. Per gli americani è quasi un'ossessione, ritenuta un diritto innato e inalienabile assieme alla vita e alla libertà, non a caso l'hanno inserita nel preambolo della dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e quindi l'hanno studiata scientificamente. Nel 1938 un gruppo di ricercatori dell'Università di Harvard ha selezionato 268 giovani studenti e li ha seguiti ogni anno fino ai giorni nostri, indagando in loro i dati sulla salute, sugli studi, le traiettorie professionali, i successi, gli insuccessi e molto altro, per restare un possibile segreto sulla felicità. Di quei 268 giovani cui apparteneva anche John Fitzgerald Kennedy, un campione decisamente selezionato, questo va detto perché erano solo uomini e decisamente benestanti, ma era il limite di accesso all'università, ne restano soltanto 19. Sono stati recentemente pubblicati i risultati e qui vediamo le sorprese. Non sono infatti il denaro e il successo sul lavoro a procurarci vera gioia e allungare le nostre vite, bensì i rapporti intensi con il coniuge, con la famiglia, gli amici e l'impegno nella comunità. Sono questi legami molto più della classe sociale a proteggerci dalle sconfitte della vita, ad alleviare le nostre sofferenze, darci entusiasmo e motivazioni, ritardando il nostro declino fisico e cognitivo. Il segreto si chiama salute sociale. Non bisogna però essere solo aperti alle amicizie secondo lo studio, ma bisogna averne cura, metterle al centro della nostra attenzione e ravvivarle. La solitudine uccide e tra le conclusioni degli studiosi, ma non dimentichiamo che quasi sempre, direttamente o indirettamente, la solitudine è una scelta. Grazie a tutti.